Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio, sono le 15.58 di mercoledì 15 maggio e direi che i dati statunitensi sull'inflazione, quelli più attesi in assoluto, hanno provocato temporaneamente, nel breve periodo, un bel movimento che ci ha obbligato ad aggiornare la centratura, anche se nella realtà dei fatti ha provocato un cambiamento a livello ciclico? Guardate il mio dito, perché no? Semplice, perché da qui forse non l'avevo lasciato intendere in maniera molto semplice, ma comunque chiunque potrebbe constatarlo se avesse fatto il corso come di analisi ciclica evoluta, quello che è possibile che riprenda a fare per persone però selezionate. Da qui, con tutta questa discesa, non avevamo violato nessun vincolo, nessuno swing, voglio dire, per la partenza di un nuovo settimanale inverso. Quindi c'era tutta la possibilità che si ritornasse su. E che cosa hanno fatto? Partiti da qui sono tornati qui, partiti da qui sono ritornati un po' più sopra rispetto a qui perché non era in realtà partito nessun ciclo settimanale inverso. Capite perché siamo prudenti in questo periodo? Fate di sì con la testa, se l'avete compreso. Capite perché nell'analisi fatta con la centratura daily su House of Trading, che potete vedere tranquillamente sul canale di Investimenti Ben Per Paribas, gratuito, a disposizione di tutti ancora adesso, non mi sono sbilanciato e ho continuato a segnalare che se non avremo violazioni di determinati swing faremo determinate cose. E adesso qui vedete un allarme qua sopra, non lo tocco perché sennò scoprite che cosa ho scritto. Questo è un allarme che può far cambiare tante cose, anzi in realtà non è che cambi tante cose, rientra nel numero delle possibilità. Diciamo che comunque in ogni caso, dato che purtroppo non ci stanno dando questa grossa visibilità a medio e lungo periodo su Bitcoin, continuiamo a essere a metà tra la partenza di un annuale, in realtà la possibilità di un raccordo annuale inverso, raccordo inverso e quindi dobbiamo vivacchiare alla giornata senza rischiare di prendere decisioni troppo avventate e non so se vi ricordavate chi dava un target nei commenti senza spiegazione come al solito che saremmo andati a 59.000, 40.000, no non mi ricordo più, 49.000 mi sembrava, non abbiamo violato i 60.000 e siamo ritornati a 64.000, quindi abbiamo fatto ben 4.400 dollari di salita piano piano, poi interrotto da questa discesa e poi siamo ritornati su. Per cui attenzione, tutte le volte che durante il corso ragionavo di determinate cose, soprattutto sulle salite, dicevo, sì sì, la gente interpreta la salita in un unico modo, oh che bello, Bitcoin ha ripreso forza. Se invece parliamo di analisi evoluta, sì, bello, è una delle due possibilità che ci sono, oppure che cosa ha chiuso qui di inverso? Perché andiamo a prendere da questo massimo a qui 60 barre, quindi sappiamo che un ciclo T-3, ciclo giornaliero inverso, che parte da massimi, torna su minimi e ritorna su massimi, fa una U, un'onda al contrario, dura al massimo 44 barre, quindi 60 barre no, non c'è soltanto un T-3 inverso, abbiamo quindi che cosa? Dalla centratura che vi posso far vedere, abbiamo 30 barre di ottavo T-3 inverso più, che cosa? Più ormai 30, 31 barre, 30 barre più una di nono T-3 inverso. Cosa facciamo con questo massimo? Che cosa ci racconta questo massimo? Questo massimo ci dice una cosa che è trascorso del tempo di inverso, che abbiamo chiuso sicuramente, o almeno abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per chiudere il nostro settimanale inverso, più che sufficiente, perché qui era già sufficiente, ok? Qui siamo andati oltre la sufficienza, qui siamo già andando oltre il tempo medio di un ciclo settimanale, che come potete vedere in media dura 8 giorni, al massimo 11, ok? State iniziando a comprendere? Peraltro il T-2 non era così convinto della discesa, qui. Qui parlo prima dei dati, i dati che poi appunto sono arrivati appunto alle 14.30, che devo dirvi la verità non è neanche guardato, ok? Sono rossi, quindi la riflessione è che se sono rossi, allora fantastico, perché potrebbero tagliare i tassi e quindi salgono le borse anche forse Bitcoin, che però non c'entra niente con le borse, però aspettate un attimo il collegamento, quale possiamo fare? Possiamo dire che se i tassi scendono il dollaro si deprezza e quindi Bitcoin sale, è una possibilità, ok? Mi sono autogiustificato tardi le cose, ah tra l'altro se lo aggiorno, adesso avremo anche il dato sul petrolio che è uscito da poco, infatti ho visto il petrolio andare a sprofondare come da analisi precedente fatta un bel po' di tempo fa tra l'altro, in cui segnalavo che eravamo su una chiusura di ciclo annuale e quindi anche questa analisi è andata perfettamente bene. In ogni caso, ritorniamo a Bitcoin, qui abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per chiudere un settimanale, ma un settimanale chiude solo con un t-3 inverso, come dicevamo poteva essersi chiuso qua. Adesso sotto questo massimo quanti cicli abbiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oppure 8. A tempo puro qui, sapete che cosa chiudiamo con un settimanale d'inverso? Fino a un t-3, a un trimestrale d'inverso. Poi vogliono esagerare, c'è spazio per la salita, abbiamo tempo, come detto, partiamo da qui, siamo a 31 bar, se hanno voglia di continuare a salire fino alla 44esima che chiude alle 2 della mattina hanno tempo per andare su. Il tecnica 2 non ci dava short, capisco perché nonostante due belle candele rosse che prima in proporzione erano grosse, caspita, vedete? La proporzione del primo era questa. Arriviamo qui, facciamo 26 barre, oltre le 24, condizione necessaria e sufficiente per chiudere quello che pensavamo fosse il secondo t-3 inverso, mi metto short, arriva la prima candela, tecnica 2 non convinto, arriva la seconda candela, prima dei dati, non convinto dello short, arrivano i dati, grazie al tecnica 2 non siamo stati spazzati via a livello di stop loss, perché qui gli stop loss saltano, qui quando fa dei movimenti così rapidi, non è che vi esegue lo stop loss, chiudete con la perdita e fine del discorso, no no, qui si va su, vi salta lo stop loss e vi fate malissimo, ok? E' differente la questione. quindi, se la prima regola del buon trader, del valido trader è non perdere soldi, noi abbiamo un portiere eccezionale in questo momento, ancora più forte del miglior portiere di tutto l'occidente e di tutto il sud America. Abbiamo il tecnica 2, che ci evita di andare a perdere tantissimi soldi. E' poco? Dipende da come lo vedete, io amo non perdere soldi, e poi mi preparo a capire che cosa ci vuole raccontare dalla prossima candela in avanti. Short o non short? Perché per adesso continua a darci tendenza rialzista. Ecco perché ho segnato questo livello, ok? E questo livello è un avvaloramento di quanto vi ho raccontato già prima. Lato indice, a che punto siamo arrivati? Così chiudiamo questa anteprima. qui abbiamo fatto 29 barre, qui, adesso capiamo anche perché diventa più difficile fare uno short, potrebbe essere appena iniziato il sesto t-3, ok? Eccoci qua. Vi raccomando, se non l'avete ancora fatto, di fare un salto a vedere questo video, il video con Luca Di Scacciati, sulla stagionalità e la ciclicità che avvalora tutto quello che vedete raccontato nel primo canale in Italia di analisi ciclica e analisi evoluta, ovvero questo, con oltre 16.500 iscritti e che vi permette di trovare uno strumento ancora più interessante da aggiungere all'analisi evoluta per ragionare di mercati e di cripto. Sì, avete sentito bene, c'è anche dentro Bitcoin. Ok? Vi ringrazio per il vostro tempo, se vi è piaciuto il video ed è stato utile mettete un bel like e ci sentiamo questa sera, spero. Se non cambia la situazione, se cambia la situazione ci sentiamo sicuramente. Arrivederci!